Si insedierà domani a Battipaglia la Commissione Pari Opportunità, che apre alla collaborazione di esperti del settore. Obiettivi principali sono le donne, l'eco-compenso, la vicinanza alle categorie protette e i meno abbienti. Beh, sta già nella definizione Commissione Pari Opportunità, significa valorizzare l'apporto della comunità attraverso la partecipazione di rappresentanti della nostra città, in particolare delle associazioni, per un percorso condiviso che valorizzi naturalmente il mondo femminile, ma non solo, ecco, all'interno della società civile, quindi tutti quelli che sono gli aspetti della nostra vita di comunità, in particolare per il lavoro, per l'accudimento dei figli, per la Pari Opportunità nella remunerazione lavorativa. Quindi c'è tanto lavoro da fare. Sicuramente Battipaglia, con l'insediamento della Commissione Pari Opportunità, raggiunge un obiettivo importantissimo. Domani presenteremo la Commissione, ma avremo anche una conferenza che vuole essere un'apertura di orizzonti attraverso la presenza della professoressa Lidio Pupilli, che è un'esperta di storia delle donne, e saranno presenti anche delle classi, delle scuole superiori, perché ecco, questo è un elemento sempre presente nelle nostre attività, in particolare in quelle del mio assessorato, che prevede anche l'impegno nelle politiche scolastiche, proprio per rendere i giovani consapevoli dell'importanza di guardare al mondo femminile come una grande risorsa per la vita. Fra poco saranno tre anni dall'inizio della pandemia, ricordiamo che era il marzo del 2020. Negli anni poi c'è stata anche la guerra, la crisi economica e non solo. Le varie opportunità servono anche a questo, servono anche ad uscire da un periodo molto difficile quale stiamo vivendo. Certamente, condivido pienamente questa sua affermazione, perché sicuramente c'è stato un isolamento determinato dai tre anni di pandemia. Io l'ho vissuto come dirigente scolastico, quindi sono stata ben consapevole delle difficoltà di relazione sociale, di comunicazione, che hanno sicuramente determinato molto isolamento, soprattutto forse per alcune donne, ecco, quindi, e anche per i giovani, ecco, pari opportunità, ecco, io vorrei che questo universo diventasse molto più ampio, perché non ci vogliamo riferire solo alle donne, ma anche a chi ha bisogno di essere incluso all'interno della nostra vita sociale.